Buongiorno a tutti. Siamo 78 giornalisti a bordo, giornalisti e operatori dei mezzi di comunicazione, di cui 8 dai paesi dove saremo. Quindi, tutto è l'Ombria e l'Ombria. Grazie tanto tanto per questa salute e per le parole che non la ricorda. Buongiorno a voi, grazie alla compagnia. Questo volo ha un po' di gusto, di congeso. Perché ci lascia il maestro delle serimonie, l'ultimo viaggio, che è diventato vescovo. Poi ci lascia il dittatore di turno, questo bravo che anche lui è stato nominato vescovo. E lascia il posto a un signore, Giorgio, si chiama, indiano, ma sempre sorride, sempre. Sarà un dittatore con sorrisso. Il sorrisso che ci lascia l'aritalia e tanti congedi. Ma noi prendiamo i viaggi. E questa è una cosa molto importante. Perché andremo a portare la parola e il saluto a tanta gente. Grazie di venire. Grazie Monsignor Diodonè. Grazie Monsignor Diodonè. Grazie Monsignor Diodonè. Grazie Monsignor Marini. Grazie a tutti voi, e grazie a la dittatore che aventata a tutti. Grazie Monsignor Diodonè. La pista di atterraggio, è così? Andiamo avanti, ricordando sempre coloro che non stanno nel volo, che sono i nostri compagni. Adesso io passerò per salutarvi con in fretta, perché? Sì, i tempi sono stretti, eh? Eh, grazie.